La medicina di precisione arriva al San Donato di Arezzo grazie al nuovo laboratorio di biologia molecolare nato all'interno del reperto di anatomia patologica dell'ospedale. È una serie di nuove tecnologie che stiamo acquisendo dal 2015, oggi siamo quasi arrivati in fondo, si configura una vera e propria sfida che parte da Arezzo verso la medicina di precisione, verso la target therapy. Per il cittadino cosa cambia? Da oggi e soprattutto da oggi e nei prossimi mesi, anni, cambia il sistema di fare diagnosi perché utilizzeremo sempre di più, più che la biopsia, che rimarrà sempre da fare, anche il prelievo di sangue per fare il diagnosi di tumore, andando a cercare quindi l'alterazione genetica, la piccola cellula del tumore che è in circolazione e cambia soprattutto la prospettiva di terapia, quindi non più una terapia perché c'è il tumore del polmone o dell'ovaio o della mammella, ma una terapia bersaglio di precisione per quella alterazione biomolecolare. È un investimento importante, è un investimento che arriva dopo lungo lavoro, quindi non è che arriva in maniera immediata, è un investimento che ci dice che sul sandonato c'è attenzione, adesso è il caso di capire invece tutti insieme gli investimenti complessivi che vengono fatti. All'interno del laboratorio saranno presenti in modo unificato tutte le attività di diagnostica molecolare, dunque dall'oncologia alla virologia. I vari vantaggi di averlo qui sono i tempi, il tempo di risposta, cioè per quanto il laboratorio esterno a cui facciamo riferimento sia efficiente, è chiaro che avere il campione lavorato qui ci permette di dare una risposta in tempo quasi reale. Diciamo che quello che adesso richiede 10-15 giorni di tempo probabilmente richiederà 4-5 giorni, quindi insomma un sostanziale miglioramento dei tempi di attesa per quel che riguarda questo tipo di esame.